Buongiorno, siamo oggi a Colle di Tora, Lago del Turano, vedete sotto di voi lo scenario che vi si presenta davanti, siamo esattamente su un colle che domina quasi tutta la Valle del Turano con sotto di noi Colle di Tora che è questo paese che sembra una nave in partenza dentro l'acqua, sullo sfondo Castel di Tora, Montantuni e Montecervi e Montenavegna che in questo momento sono leggermente innevate, che sono un parco naturale, allora vi dicevo località il colle e oggi vi voglio presentare questo casale, casale composto da due porzioni, due unità immobiliari, questo che vedete sulla mia testa che vi sto inquadrando è quello dove è il ponteggio che è in corso di ristrutturazione, questo che vedete qui di fronte a voi è un casale di cento metri quadri su due livelli con questo balcone che guarda tutta la valle al ridosso di questa strada, la visuale che avete dal casale è questa che vi sto mostrando, quindi vi dicevo casale in pietra, chiaramente la pietra è da rivedere perché è da stuccare, da sistemare come pietra faccia vista, internamente il casale è stato in parte ristrutturato, c'è da fare alcune rifiniture come può essere un pavimento incotto in parquet da posare sopra questo pavimento di marmette, per quanto riguarda tutti gli altri impianti, impianti idraulici, impianti elettrici, è stato tutto fatto, tutto a norma e comunque il casale così come lo vedete è perfettamente abitabile, abbiamo come entriamo questo salone, questa parte di salone con cammino, ecco questa è la porta d'ingresso tanto per fare la giusta panoramica, quindi entriamo, abbiamo questo vano molto ampio con quest'altro salone, praticamente abbiamo un salone doppio, ecco vedete questa, quest'altro vano molto grande, molto ampio con altro cammino, ci sono due cammini in quanto l'attuale proprietario voleva in questa parte qui fare la cucina e integrare questo cammino che vi sto vedendo che era stato installato nuovo, anche se è da rifinire, integrarlo con tutta una zona cucina e lasciare sulla parte entrando qui un soggiorno, tutta zona gioco insomma. Allora, su questo piano che è piano terra, uscendo, abbiamo questa veranda in legno, eccola qui, una mossa in tutta la sua grandezza, molto ampia, ben vivibile, nella quale possiamo passare delle splendide giornate, serate e ha una visuale ed è disposta all'interno, ha una vista interna alla valle, quindi non sul lato del lago ma abbiamo la vista interna. Questo terreno che vedete sul davanti fa parte di questa proprietà. Continuiamo nella visita dell'immobile, tornando indietro andiamo al piano di sopra, dove abbiamo le nostre camere, due ampie camere da letto con il bagno. Ecco il bagno questo che vedete in fondo. Come vi dicevo prima, alla nostra testa, questo è il tetto della tettoia, abbiamo il terreno del casale e una vista interna alla valle, sulla strada che dà verso Rieti, la Turanense, mentre sulla nostra sinistra, quindi il casale è perfettamente areggiato ed ha una visuale su tutti e due i lati della costruzione. E qui abbiamo quella che era la vista che vi presentavo a inizio video, una veduta come se ne possono avere poche, non solo nella valle del Turano ma io ritengo quasi tutta la Sabina e anche oltre. Una vista molto bella, quindi un casale con una vista molto aperta, posizione dominante sul lago. Abbiamo ancora le nostre belle capritte, questo è il balcone, come vi dicevo, che è alla vista sulla parte aperta sulla valle, sul lago. Mentre rientrando, questa è un'ampia camera, abbiamo il bagno che è stato, come vi dicevo, completamente ristrutturato, a gusto chiaramente del proprietario e questa altra ampia camera, quindi due grandi camere per un totale a piano di 50 metri quadri. Quindi abbiamo salone doppio sotto, piano terra, due camere da letto, due ampie camere da letto al primo piano. Tutte e due le camere hanno l'uscita con la porta a finestra che guarda con l'editora e tutto il lago del Turano. Consideriamo che c'è la possibilità di prendere tutte e due le porzioni di casale, cioè sia questo che internamente è ristrutturato ma esternamente è da finire, come vedete c'è la pietra faccia vista da risistemare, in più possiamo aggiungere, è un'altra proprietà, quindi sono due acquisti, però possono diventare un tutt'uno, possiamo aggiungere anche quest'altro casale per altri 100 metri quadri che è completamente da ristrutturare, cioè c'è da rifare sia tetto che solai, per un totale di terreno, nel caso riprendessimo tutte e due, di circa 2.500 metri quadri, diversamente il terreno andrebbe diviso per i due casali. Il terreno, che come vi dicevo, lo faccio rivedere, è questo qui, sulla parte interna della collina, bel terreno, con una bella visuale, considerate che in questo casale sorge su un lato il sole e tramonta dall'altro, quindi abbiamo tutto il giorno il casale illuminato dal sole. Bene, io spero che questo video vi soddisfi, altrimenti vi invito a vederne altri sempre sul nostro sito. Arrivederci e grazie mille. Grazie.